Con tre coltellate al culmine di una banale lite si è spenta la vita di Francesco De Santi, 33 anni, di capaccio. A colpirlo a morte è stato il 25enne Vincenzo Galdoporpora, anche lui della città dei Templi, dove nella notte tra sabato e domenica scorsi si è consumata la tragedia. Un omicidio compiuto davanti a diverse persone che hanno potuto raccontare agli inquirenti i fatti accaduti aiutandoli nella ricostruzione del tragico episodio. De Santi era un noto pizzaiolo e sabato sera, dopo il lavoro, si era fermato al bar prima di far rientro a casa. Intorno alle 4 del mattino ha iniziato a litigare con Galdoporpora, quest'ultimo nel momento clou della discussione ha tirato fuori un coltello con una lama di 9 centimetri ed ha iniziato a colpire il pizzaiolo. Delle tre pugnalate una ha raggiunto il cuore di Francesco che non ha avuto scampo. Il suo omicida si è allontanato mentre le persone presenti al bar hanno chiamato i soccorsi ed hanno provato inutilmente a rianimare il 33enne. Poco dopo l'omicidio Galdoporpora si è presentato presso la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato. Ha confessato il delitto che aveva commesso un istante prima ed ha consegnato il coltello omicida. Successivamente i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione dove hanno ritrovato alcuni grammi di hashish. Il reo confesso è ora rinchiuso nel carcere di Forni mentre la salma della sua vittima è presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Francesco apparteneva ad una famiglia per bene molto nota a Cicerale dove gestisce un agriturismo. Più sfortunato il suo assassino. Otto anni fa lui e la sorella furono abbandonati dalla mamma e rimasero da soli. Negli ultimi anni è finito nei guai. Nel 2017 Galdoporpora è stato arrestato nell'ambito di un blitz antidroga. Senza parole il sindaco di Capaccio Pesto ma Franco Alfieri è una morte assurda che addolora l'intera comunità.